Era accusato di corruzione e accesso abusivo a banca dati, finanziere assolto dall'accusa principale e condannato a sei mesi per la seconda. A sostenere l'accusa contro un finanziere cinquantenne la procura distrettuale antimafia di Firenze, rappresentata dal PM Marco Dioni nel processo davanti al collegio del tribunale di Arezzo, presieduto da Filippo Ruggero. Oltre alla finanziere era imputato un valdarnese di origini campane. Stando a quanto ricostruito in aula, il campano informatore del finanziere avrebbe chiesto a quest'ultimo di fornirgli il nome di un carabiniere. Pensando, come ha detto il finanziere in aula, che si trattasse di un possibile nominativo per un'indagine, avrebbe fornito il nome e l'indirizzo anagrafico, ma poi avrebbe evitato di andare oltre, peraltro, senza chiedere nulla in cambio. Proprio una volta apurato quest'ultimo particolare, il finanziere è stato assolto dall'accusa di corruzione e condannato a sei mesi per l'accesso alla banca dati, un anno invece per l'altro imputato. Si è trattato di un bel processo, ha dichiarato il difensore del finanziere Jacopo Gori. Il mio assistito aveva peraltro lasciato tutto in chat, segno della buona fede che speriamo poi gli venga riconosciuta in appello.